A 33 anni Ho sempre pensato che moriva a 33 anni. Anche perché me l'essero amato e mi dissero che a 33 anni mi avrebbero sparato. E io a questa cosa ci ho creduto. Poi a 32 mi hanno arrestato. Sono uscito dal carcere a 40 anni. Lo sai che devi fare un presidente del quartiere, no? Questa strada mi sembrava la California. Per il quartiere devi vedere la cosa che vuoi. Non capisci che si spaccia più qua. Di quant'anno sei meglio che ci stanno? Sì, sì, va bene, esperto dei pomodori. Non manco dei mani i pomodori! Mi sono svegliato, leggera, capito? Senza un peso, un mese d'arbetto, senza i pensieri, le cose. Io mi sono sozzato le mani, l'ho fatto perché me l'hai chiesto te. Invece adesso mi stai a canna. No, però sei deficiente proprio. Ti hai cagliato? Sei stupido proprio. Aia!